Siamo con il presidente dell'Inter Club di San Salvo, Virginio Di Piero. Alcune sere fa la premiazione del cuore nero-azzurro, l'edizione 2011, è andata ad Antonio Paganin. L'edizione scorsa andò ad Evaristo Beccalossi. Qual è stato il motivo e quali sono state le scelte per cui hanno portato a questo premio? Sì, il premio è arrivato oramai alla sua seconda edizione, siamo felicissimi, una bellissima iniziativa. Sono tutti e due personaggi dell'Inter anni 90 e tutti e due avevano scritto un libro. Quindi abbiamo provato a scavare nel profondo dell'anima di questi calciatori. Prima l'anno scorso con Beccalossi, quest'anno con Paganin. E devo dire che soprattutto quest'anno con Antonio Paganin abbiamo trovato veramente un personaggio con un animo sensibile. Non per nulla il libro ricavato andrà in beneficenza, ma questo è solo un dettaglio. Anche il suo modo di approcciarsi con noi, con i ragazzi che sono stati alla manifestazione. Un personaggio veramente in gamba che ci ha sorpreso positivamente. Veramente una bella persona, come così anche Beccalossi, che è più conosciuto e oramai sempre in tv alla domenica sportiva. Paganin è meno conosciuto, però meno personaggio, ma un carattere veramente che ci ha sorpreso. Una bravissima persona. Niente, il cuore nero azzurro l'abbiamo inventato noi, è stato ideato questo premio dall'Inter Club San Salvo. Cerchiamo di premiare chi rimane, anche dopo che la carriera calcistica finisce, con un minimo di radice attaccata alla squadra. Quindi lui ha presentato il libro, è venuto insieme al professor Gennari, che ha scritto insieme a lui il libro. I tifosi erano entusiasti, hanno chiesto un sacco di aneddoti, lui ha raccontato un po' di tutto. Devo dire che c'erano dei tifosi che ne sapevano più di lui, in quanto a date, aneddoti, eccetera. Quali sono state le iniziative intraprese da parte dell'Inter Club di San Salvo in questa stagione in corso? A parte questa iniziativa, noi organizziamo un pullman insieme al coordinamento regionale. In pratica ogni partita che l'Inter gioca in casa, noi partiamo da San Salvo, un pullman che ferma per le quattro province, quindi per la provincia di Chieti, ferma San Salvo, poi Pescara, Teramo e L'Aquila e raggiunge San Siro. La cosa importante, volevo invitare chiunque, anche chi non è socio, a partecipare perché si può passare una bellissima giornata con tanti bambini, noi non siamo un gruppo di ultra, siamo un gruppo di persone che seguono il calcio, seguono l'Inter e quindi chiunque può partecipare può rivolgersi alla nostra sede, al bar meeting di San Salvo Marina e iscriversi perché la prossima partita è con la Fiorentina l'8 di maggio, poi il 22 maggio se non erro con il Catania, sono partite che si giocano di pomeriggio, quindi si parte la mattina e si rientra in nottata solo di domenica. Belle iniziative. Una realtà dinamica da cui traspare indubbiamente molta passione, quanti iscritti conta attualmente la realtà dell'Inter Club? Sì, questo è il quarto anno, noi siamo partiti con 145 iscritti il primo anno, poi siamo passati a 190 il secondo, 270 l'anno scorso, quest'anno abbiamo raggiunto i 300 iscritti, siamo felicissimi, è una bella realtà, ci muoviamo nel territorio, siamo conosciuti, abbiamo un nostro sito che nel nostro piccolo ha una media di 100 contatti al giorno e non sono pochi perché è una realtà insomma locale e soprattutto è un sito aggiornato quasi quotidianamente, un sito a costo zero, fatto da noi, però ne andiamo orgogliosi. Quali sono le prospettive per quanto concerne il futuro invece? Forse coinvolgere di più le persone, i soci, adesso stiamo cercando di organizzare un triangolare di calcetto così tra Inter Club, Juve Club e Milan Club di San Salvo, probabilmente ci sarà il 4 giugno, ancora un embrione, stiamo ancora decidendo. È una bella iniziativa, due anni fa l'abbiamo fatto con lo Juve Club ed è stata una bellissima iniziativa, poi magari ci risentiremo quando sarà il momento, insieme anche agli altri presidenti vi presenteremo l'iniziativa.